Gliel'abbiamo detto anche prima, infatti, l'ha portato bene, ma Verona Pazzesco, Verona Pazzesco in questa partita, vittoria meritata. Sì, una vittoria meritata, soprattutto nel primo tempo abbiamo dimostrato di avere una fame importante, grande voglia di vittoria e niente, sono tre punti che ci rilanciano in chiave salvezza. Mentre godi da brividi, il pubblico vi ha accompagnato dall'inizio alla fine. Sì, il pubblico anche oggi, soprattutto oggi, ha dimostrato davvero quanto ci tiene alla maglia questi colori e noi siamo contenti di avergli regalato questa gioia. Si pensa già alle prossime, questo ovviamente è una carica di adrenalina e di positività per guardare i prossimi appuntamenti. Sì, sicuramente vincere aiuta a lavorare meglio in settimana, con più serenità e consapevoli che davvero ce la possiamo giocare con tutti. Quindi domenica andremo a Udine per cercare di vincere anche su quel campo.